Tempo di attestati e riconoscimenti a Bari. Ad essere coinvolti giovani nella sala consigliare di Palazzo di Città ha avuto luogo la cerimonia per il conferimento di 88 borse di studio agli studenti che nell'anno scolastico 2021-22 hanno frequentato o conseguito il diploma di scuola media superiore e di 22 borse di studio in favore di laureati che abbiano discusso tesi di laurea sulla città e sulle problematiche ad essa connesse negli anni che vanno dal 2020 al 2021. Il 16 aprile si replica per il conferimento di altre 89 borse di studio in favore degli studenti dell'anno scolastico 2022-23. Ciascuna borsa di studio per i laureati ammonta 1.546 euro mentre il valore delle borse di studio destinate a studenti e diplomati è pari a 259 euro l'una. Questa iniziativa si inserisce in una riflessione più ampia che stiamo facendo sui giovani della città di Bari dando loro la possibilità non solo di avere spazi, penso alle 11 biblioteche che abbiamo inaugurato, rivolte prevalentemente a loro, o agli spazi di luoghi comuni, a spazio 13, all'Accademia del Cinema di Enziteto, ma anche servizi rivolti ai più giovani e in questo caso anche sostegni economici per gli alunni meritevoli con particolare attenzione a chi è in difficoltà. Grazie